Cari amici, atleti, turisti, portereste in Italia i vostri figli a scuola, negli asili, nelle università, sapendo che professori, maestre non hanno i corsi di sicurezza fatti, obbligatori, visite mediche, relative, periodiche, oppure non avendo fatto le dovute precauzioni? Bene, nelle piscine italiane invece questo accade, specialmente quelle comunali, dove migliaia di lavoratori sono privi di corsi di sicurezza e relative visite mediche, periodiche, obbligatorie. Si lavora senza contratti nazionali e questo comporta a non avere poi la cassa integrazione né la identità di disoccupazione. Siamo nel 2020. Questa è l'Italia attuale che intervenga al Tribunale di Strasburgo, la Comunità Europea. Non si può ancora continuare in Italia a lavorare in questa maniera. È un pericolo per tutti.